Guarda come sono facili da fare le scaloppine con asparagi. Sono gustose e la carne rimane morbidissima. Trita finemente la cipolla e poi versele in una padella. Pugliesci gli asparagi, togli la parte finale più dura ed eventuali filamenti. Tagliali poi a becco di flauto, ossia in modo obliquo. Versa lì nella padella con la cipolla, aggiungi dell'olio, il brodo o dell'acqua e fai cuocere per 5 minuti. Regola poi di sale e tienili da parte. Passa poi le fetine di vitello nella farina. E nella padella in cui avete cotto gli asparagi, versa dell'olio, il burro e un rametto di rosmarino. Quando il burro sarà sciolto, sistema le fetine di vitello e falle rosolare bene. Sfuma poi con il vino e lascia evaporare l'alcol. Quando sarà evaporato, aggiungi gli asparagi tenuti da parte. Togli il rametto di rosmarino e fai insaporire per qualche minuto. Servi le scaloppine a belle calde e accompagnate con gli asparagi. E se le provi, fammi sapere!